ciao a tutti oggi prepareremo gli spaghetti aglio olio e peperoncino il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti ingredienti sono spaghetti aglio olio prezzemolo peperoncino pomodorini piccadilli sale e acqua i quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it andiamo il via alla ricetta iniziamo a tritare il nostro prezzemolo mettiamo il prezzemolo all'interno del boccale andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 8 andiamo a mettere da parte il nostro trito di prezzemolo dopo aver messo da parte il nostro trito di prezzemolo andiamo a mettere nel boccale l'aglio e il peperoncino li andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7 premiamo sul fondo adesso andiamo ad aggiungere l'olio e i pomodorini piccadilli e andiamo a cuocere per 3 minuti 100 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere l'acqua e il sale e il sale andiamo a portare a ebollizione l'acqua 7 minuti 100 gradi velocità 1 adesso andiamo ad aggiungere dal fuoco del coperchio i nostri spaghetti e li andiamo a cuocere per il tempo indicato nella confezione della pasta nel nostro caso 8 minuti 100 gradi anti-orario velocità soft e andiamo a spingere gli spaghetti verso il fondo una volta che gli spaghetti saranno entrati tutti all'interno del boccale andiamo a mescolarli con la spatola adesso andiamo ad aggiungere il nostro prezzemolo e andiamo a mescolarlo per 30 secondi anti-orario velocità soft la nostra pasta è pronta andiamo a impiattare spaghetti aglio olio e peperoncino grazie e alla prossima ricetta grazie 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 a tutti.